Proroga di tre mesi per i contratti di servizio di Alba. A stabilirlo la Giunta Municipale, che al fine di garantire la prosecuzione dei servizi di igiene urbana e manutenzione del patrimonio comunale, ha dato il via libera alla proroga fino al 31 dicembre dei vecchi contratti, in attesa che si completi l'iter di stipola dei nuovi contratti, che dovranno essere vagliati dal Consiglio Comunale e che sono stati richiesti a più riprese dai sindacati al fine di dare continuità all'operato dei lavoratori.